ciao a tutti ragazzi da gilafatim e bentornati in questo nuovo episodio di crash bandicoot ensane trilogy crash bandicoot 2 e direi di continuare subitissimo facendo gli altri livelli allora nella prima parte abbiamo fatto i primi tre adesso direi di fare gli ultimi due più il boss se ci riesco ok vediamo devo fare dei pizzi e crash dash devo questo sfogo così abbastanza dance possiamo procedere ciao tartaruga le musichette però sono bellissime di crash nella prima parte non sono nemmeno morta tantissime volte che cura io qua già prevedo miliardi di morti in questo gameplay figuratevi andiamo a fare le stragi crash oh crescia di un dio ok pensavo mi avesse levato fuori quello dorato vabbè vabbè dettagli sai che dobbiamo andare poi all'altro lato se ci sono queste due invisibili tu muori pure male non morire tu crash Porco demonio Perché sono impranata Piano Ok Vediamo questo Così quasi dopo Finisco di registrare Sì, ti voltate pure con la telecamera Vediamo, dai Questo è che l'ho mollata Le miniere Stavo per morire malissimo E qua, attenzione Attenzione, le magie Di Giralfa Team Giel Salto Team Tu crepa Uh, combo No, 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 no Ma mi sa che quella è l'ultima cassa Da sto lato Quindi Vabbè, dai, proviamo Facciamo tutto il giro E andiamo all'altro lato Prima ti ho risformiato Ma adesso crepi Ce ne sono due Tribbio No Non volevo Bu, 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 bu Stavo per morire male Dove è il cavolo Eh Oh, pure su due vite sono Oh, bu, 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 bu Vai Ok Bonus Non mi dire che qua è il bonus No, dai Adesso qui morirò ben 14.000 milioni di miliardi di volte Ok Torniamo indietro Ci tocca Oh, mamma mia Non sono morta Ok Attenzione 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 Perché non ho ancora detto l'ultima parola Eh, la vedo male La vedo male Mamma, 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 mamma Ok Ce l'abbiamo fatta Che culo che non sono morta nemmeno una volta Adesso moro qui, sicuro Vediamo Farei capace benissimo di farlo Ok Scusate Mettate Oddio Sto per crepare come un imbecille Tu muori Tu muori pure Tu schiacchi E tu crepi Ok Parapapaparappapp Dimmi che le ho prese tutte E pure questa volta Agiralfatim ce l'ha fatta Caricamento Sempre un patto Nei caricamenti Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo ok andiamo avanti Crash se mi stai facendo fare i figuri di merda Crash Dash Suggerimento si vuole per muoverti più velocemente se lo dici tu Crash Dash se non sbaglio questo è il livello con la telecamera invertita porca puttana mi hanno sempre dato fastidio si vedi concentrazione attenzione attenzione ok mi sudano le mani mi sudano le mani mi sudano le mani porca puttana cribbio No, 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 mi sta scivolando tutto, mi sta scivolando tutto. Ce l'abbiamo fatta. Vita a me. Dai, Crash, dai, Crash. ah culo ce l'abbiamo fatta fino a qui ok facciamo il bonus spero niente di ossico mi proda il naso ok ora non le ricordavo le musiche così cristo non volevo fare quello vabbè riproviamo ho fatto una cagata e non mi rida più la vita ma che caso non ricordo nebo uno che adesso in continuazione sempre ad ogni tentativo porco basta adesso smetto di parlare oddio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 salta ho perso dieci anni di vita spero di averle prese tutte disturbo mamma mia mi son vista per terra le mani che mi stanno scivolando dal controller allora crash in realtà dobbiamo parlare perchè a me mi puoi far fare ste figure è comunque qualche problema merda merda rimmerda vabbè la scassola ok dovrebbe ecco non è stato uguale ho perso una vita così 18 vite però dai sono morta un paio di volte ma non fa niente caricamento dovrebbero migliorare un pochettino i caricamenti perchè sono adesso c'è il boss se non sbaglio no dai ok cortex force integra il cristallo non lo toccherei l'ha appena tirato dal culo non volevo dirlo ma ok andiamo a affrontare i boss forretta roo lol il bastone di paperone io simpaticissimo non so tra te e lucas muoviti a schiattare oddio 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 no 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 scherzavo oddio 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 adesso Ah vabbè ok Ancora queste Ma adesso salta un pochettino Dio Che palle dovevo rifare da casa Dai Chissà che cosa si è fumato a riferro Guardate lì Ora viene bello No 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 Crash 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 No 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 Ok Ciao rifare Trofeo guadagnato Professore polverizzato Benissimo Chiamate WWF Io ve l'ho detto La rega animali Ragazzi la maglia di The Last of Us LOL Così volevo mostrarla Perché è nati dog E niente Quindi possiamo anche Andare su giù su R1 Non voglio andare giù Ok Questo è il prossimo set di livelli Sulla neve la maggior parte Quindi il tema della neve Ciao piccolo orso polare Non c'è�를 Non volevo andare lì Ah Non troppo andata lì Fargo sorpreso Ti ho cercato dappertutto Non ho molto tempo Ma ti volevo dire di fare attenzione Fidarsi di Cortex mi sembra una pessima idea Crash Questo collegamento sta per saltare Crash devi trovare Almeno l'intelligente dai Benissimo ragazzi Allora direi di terminare qui Anche questo episodio Ancora tante grazie a tutti Per i like e i commenti Eccetera 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 Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao